buongiorno a tutti buongiorno a tutti coloro che si sono collegati in particolare la scuola primaria di istedombrone istituto comprensivo grosseto 6 e la scuola media bonarroti di cinigiano istituto comprensivo civitella paganico vi ringrazio tanto di esservi collegati in questo momento così difficile per la nostra provincia per il nostro comune per il nostro territorio come vi ho detto prima i bimbi di istria sono collegati da casa perché il comune di gorsetto in zona rossa proprio da oggi mentre i ragazzi di cinigiano sono a scuola nella loro classe la terza media appunto di di cinigiano io ora passo la parola al vice presidente a uno dei due vice presidenti stefano campagna per un saluto istituzionale allora buongiorno a tutti e a tutte benvenuti è un piacere avervi qui anche se diciamo in maniera virtuale oggi siamo qua a presentare questo evento maiano lavacchi luogo la memoria e la storia un evento che come istituto storico grossetano della resistenza e dell'età contemporanea abbiamo concepito per presentare i lavori delle classi elementari delle delle elementari e delle medie di istia di ombrone e di cinigiano che hanno partecipato da alcuni eh laboratori organizzati dal nostro eh istituto eh nei nei mesi scorsi ci sarebbe piaciuto ovviamente presentare i risultati di 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 questi laboratori dal vivo quindi dandogli una una dimensione eh pubblica ma eh purtroppo per per ovvie ragioni questo non non è stato possibile quindi abbiamo pensato di ehm utilizzare questa questa modalità per eh dare comunque spazio eh a a questi a questi lavori e eh presentare alla eh cittadinanza eh gli esiti finali di questo percorso eh laboratoriale che eh appunto è eh basato sulla eh vicenda dell'eccidio di eh Maiano e Lavacchio del ventidue marzo millenovecento eh quarantaquattro una vicenda tragica che ha ehm come dire ha avuto e continua avere una eh un impatto eh veramente eh forte nella memoria collettiva della della nostra eh comunità e come tale è necessario eh continuare ad ad alimentarla a questi eh lavori questi eh lavori presentati dai dai ragazzi eh sotto la guida dei dei loro insegnanti mirano appunto a eh rielaborare in maniera creativa le suggestioni suggerite da questi eh drammatici eh eventi in modo tale da ehm uscire da una dimensione per così dire conservativa eh della memoria e per fornire ai ragazzi gli strumenti per interpretare eh le le vicende del passato interpretando le vicende del passato si mira anche ad eh aiutare i ragazzi a sviluppare delle competenze per leggere le vicende del del presente e questo dovrebbe essere l'obiettivo di ogni ehm istituzione come la nostra. Io eh mi fermo qua eh passo la la parola a Elena Bellati che eh introdurrà i lavori e eh vi ringrazio della della partecipazione. Grazie Stefano della del saluto eh che ci hai voluto fare eh io per quanto mi riguarda ringrazio tantissimo gli insegnanti e i docenti e i docenti delle scuole con le quali eh sono entrata in contatto e con le quali ho potuto effettuare questi laboratori eh in particolare voglio anche salutare oltre alle classi presenti anche la eh la scuola primaria di Monticello con la quale mh abbiamo iniziato a lavorare e spero che eh si possa continuare anche in futuro perché il l'ambiente diciamo è stato molto positivo e le suggestioni che ne sono uscite sono veramente molto positive. Ma eh qual è stato il percorso didattico che appunto siamo oggi orgogliosi di poter condividere eh con con voi eh ehm gli esiti materiali prodotti eh sono quelli che vedrete ma gli esiti veri sono quelli come diceva prima Stefano eh sono quelli che ogni insegnante si augura nel profondo cioè la formazione eh delle coscienze eh è questo in realtà quello a cui tutti miriamo e nella vicenda di martiridista di spunti veramente di riflessione eh ce ne sono tanti. Qual è stato il nostro intervento? L'intervento dell'Istituto Storico? È un intervento che si che si inserisce nella scia di una didattica laboratoriale a lungo praticata e agita eh da noi e da tutti gli istituti della rete parri che da moltissimi anni ormai hanno fatto della didattica della storia una delle cifre distintive delle proprie attività. È una didattica che si collega alla ricerca creando un circolo virtuoso tra istituti storici scuole e accademia e che ha fruttato appunto alla rete parri anche un prezioso riconoscimento che è quello di agenzia formativa per il personale scolastico riconosciuta dal ministero dell'istruzione. Si tratta di una didattica laboratoriale volta a mettere gli studenti in contatto con le fonti le fonti storiche cioè come si fa come si fa la storia le fonti storiche che sono costituite costruite eh che che servono per costruire una sorta di di laboratorio di 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 officina dello storico eh e quindi eh con i ragazzi si interrogano i documenti per poi giungere a una ricostruzione a una a una interpretazione chiaramente questo non con la finalità eh e con l'intento di tirare su una generazione di piccoli storici sarebbe molto bello ma ovviamente ognuno seguirà poi i propri percorsi di vita e le proprie scelte ma l'intento principale è quello di capire come funziona il racconto storico da dove eh il racconto storico prende le mosse l'intento quindi è quello di far parlare le fonti toccare attraverso di loro la materia della storia avvertirne la struttura il tessuto come questo tessuto poi si fonde anche con i territori eh e quindi con i ragazzi abbiamo fatto a seconda delle loro età età eh delle loro caratteristiche delle scelte diverse didattiche con i più piccoli che non hanno all'interno dei loro curricoli di storia lo studio dell'età contemporanea ci siamo fidati molto della professionalità e della preparazione delle loro docenti eh che hanno lavorato sui contesti perché proprio docenti sensibili e competenti e quindi è stato possibile affrontare l'argomento della seconda guerra mondiale in particolare dopo l'otto settembre quando i giovani italiani furono chiamati a operare una scelta una scelta difficile eh e quindi poi con i ragazzi della primaria abbiamo raccontato una storia abbiamo visto gli undici ragazzi in in volto da vicino molti di loro erano di Istia e i bimbi conoscevano le famiglie che ancora sono presenti sul territorio hanno sotterito tante cose ne abbiamo parlato abbiamo visto di ognuno di questi undici ragazzi in maniera semplice ma profonda la loro personalità i loro progetti di vita le loro aspettative e poi abbiamo letto qualche documento come per esempio la lettera di Antonio Brancati ai genitori l'ultima lettera di Antonio ai genitori o l'encomio ai carnefici fatto dal capo della provincia alceo Ercolani e per il brillante fatto dare abbiamo avvertito lo stridore e l'attrito con la scelta semplice di undici ragazzi che proprio la guerra non la volevano fare perché rifiutavano tutta questa violenza che si stava scatenando intorno a loro poi con i ragazzi della media cinigiano abbiamo letto anche le testimonianze più complesse tratte dalle carte conservate qui e presso l'archivio dell'ISGRED afferenti al CPLM in particolare la busta diciassette dove sono raccolti i documenti che istruiscono il procedimento processuale contro i responsabili della strage così è successo che attraverso le voci dei testimoni e soprattutto delle madri dei martiri i bimbi sono rimasti molto volti da queste testimonianze ragazzi hanno sentito tutta la sofferenza l'impatto anche esistenziale di un fatto così drammatico violento e hanno avvertito hanno percepito la storia che la storia è fatta di persone vere con tutte le loro emozioni con la sofferenza e anche con la loro sete di giustizia quindi il messaggio che è arrivato è stato quello di una voce unanime contro la violenza e contro la guerra contro l'ingiustizia della morte di innocenti i martiri non sono infatti eroi della resistenza combattuta come una prima lettura dei fatti li aveva identificati una lettura precoce al ridosso della guerra dove storicamente non c'era spazio per il pacifismo gli studi recenti però hanno restituito un significato diverso a questo capitolo della storia maremmana e il messaggio è quello della resistenza civile il messaggio di una scelta non violenta una scelta di pace il desiderio di ritorno alle occupazioni consuete alla vita alla normalità una scelta che li ha condotti a testa alta un epilogo drammatico ma che è un esempio per molti ed è rimasta indelebile nella memoria se oggi dopo sette anni stiamo qui a ricordare quel giorno terribile ma un significato profondissimo per le genti di maremma a questo punto io volevo iniziare a parlare con i con i protagonisti di questa di questo laboratorio che abbiamo che abbiamo fatto maestra maccherini ci sei volevo parlare insieme ecco del lavoro e avete fatto voi a istia d'ombrone iniziare a far vedere un pochino i prodotti ma prima volevo sapere un pochino da voi che cosa che cosa vi ha simulato intanto faccio un cappello generale rispetto al lavoro che ha eseguito la nostra classe in collaborazione con le maestre le famiglie i bambini hanno recepito questa vicenda come una cosa particolarmente riguardante il paese di istia per i motivi soprattutto riferiti alla famiglia matteini sappiamo che i due fratelli corrado ed emanuele erano abitanti di istia ma non solo per non parlare di alci di mignarri e dello stesso minucci insomma provenienti da istia e di conseguenza questa vicenda ancora oggi della popolazione del paese è ben viva nel ricordo doloroso ci teniamo noi da sempre come scuola elementare come scuola primaria quando arriviamo in quinta a soffermarci su questa vicenda affinché il ricordo rimanga sempre vivo nelle generazioni che verranno insomma chiaramente essendo una vicenda estremamente dolorosa lo facciamo solo con la la seminta e la classe diciamo attivato un laboratorio diviso tra chi ha prodotto dei testi anche in comunione con altri compagni testi scritti che noi abbiamo chiamato testi poetici ma insomma quello che si sono sentiti di dire dal profondo del cuore i bambini e mentre altri hanno preferito operare dei ritratti dei martiri stessi che alla fine sono venuti molto molto belli insomma vedrete come ragazzi di quinta elementare si sono sono riusciti a cogliere a volte anche nello sguardo la stessa impressione che avevano si legge in questi disegni lo sguardo dei martiri quindi è molto molto bella questa cosa tutti i bambini hanno collaborato in maniera diversa un gruppetto nei giorni scorsi è voluto andare alla ricerca della cappella qui al cimitero dove sono sepolti martiri e quindi l'interesse è vivo e speriamo che rimanga eh negli anni a venire che abbia formato in loro eh la coscienza ehm dell'ingiustizia che fu compiuta a quel tempo e che rimanga eh a loro come valore e come monito per gli anni futuri eh di di controllare che non avvengano più ingiustizie del genere ringrazio la professoressa Elena per la collaborazione è stata una guida sapiente ha saputo coinvolgere i bambini con le sue letture e poi lei vi dirà i prodotti che che sono poi riusciti da questo da questo laboratorio prego grazie senti senti eh Emanuela volevo sapere i bimbi hanno intenzione di leggere le loro le loro poesie presentiamoli presentali te che li conosci meglio allora partirei intanto sto vedendo adesso sono collegata con il telefono perché con il computer ho avuto dei problemi sto vedendo eh di fronte a me Emma ehm scusate fatemi controllare se ho anche Rocco sì Rocco ce la fai Rocco a leggere intanto la la presentazione di cui avevamo parlato prego Rocco allora se ce la fai comincia a leggere la prego Rocco a te la parola la commemorazione dei martiri ogni anno gli alunni di quinta della nostra scuola parteciano parteciano alla commemorazione dei undici ragazzi uccisi presso Magliano Lavacchio nel comune di Magliano purtroppo anche il prossimo ventidue marzo non potremo partecipare a causa del covid perciò la commemorazione sarà effettuata via internet noi bambini di quinta insieme alle alle nostre maestre abbiamo preparato una raccolta di disegni e poesie per dimostrare quanto questa triste vicenda ci abbia colpiti. Prego io darei adesso la parola a Viola perché addirittura il testo che lei ha scritto la piccola poesia che lei si è scritta si è imparata a memoria. Grazie Rocco. Posso dirla? Sì vai. I martiri di Istia. I martiri di Istia erano solo ragazzi che non avevano fatto nulla ma furono fucilati perché pacifisti renitenti alla leva le loro madri tristemente baciarono i piedi della gente più precisamente dei soldati solo perché i loro figli venissero salvati ma così non andò e il fascismo undici ragazzi innocenti trussidò. Grazie bellissima. Prego abbiamo credo si andiamo avanti su questo pilone abbiamo Edoardo. Prego Edoardo. I martiri undici ragazzi undici figli erano rifugiati a Monte Bottigli vennero scoperti e catturati. La mamma in progresso soldati ma alla fine vennero giustiziati. Questa storia non volevo raccontare ma è giusto che scriva per non dimenticare. Grazie. Bravo. Chi abbiamo? Scusatemi dovete alzare la mano perché a questo punto io li avevo raccolti ma non avendoci scritto il nome non riesco a capire. Emma che ha la mano alzata. Prego Emma. I martiri di Istia. Undici ragazzi coraggiosi sono morti a causa dei fascisti furiosi. Ragazzi completamente disarmati contro cento quattro uomini armati. Le loro madri completamente affrante baciavano i piedi dei fascisti implorandoli di non farli fare una morte così atroce per non aver fatto niente. Undici ragazzi renitenti alla leva uccisi senza neanche una processione degna. Così il parroco li presi. Le mise in un carro e arrivato al cimitero i seppelli e il loro potero continuare nella retta via. grazie molto bella professoressa Elena dimmi che ce ne sarà allora io mi ringrazio molto per queste produzioni poetiche si inseriscono nella tradizione di tante tanti tanti anni eh i poeti nottava rima che hanno celebrato i martiri con tante produzioni che sono arrivate fino a noi sono state eh immortalate insomma dalla tradizione che abbiamo anche fra l'altro raccolto abbiamo avuto il piacere e l'onore di raccogliere di inserire nella mostra virtuale di cui poi eh brevemente vi accenneremo alla fine del nostro a questo punto io volevo far vedere a tutti e condivido il mio schermo eh volevo far vedere eh se ci riesco a condividere perfetto volevo far vedere ecco i disegni che avevano fatto i bimbi di istia eh questa è la copertina avevano fatto eh grazie a una foto che ci aveva eh che ci aveva eh trasmesso Barontini eh questa eh la 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 rappresentazione della capanna distrutta e arza dove i martiri si nascondevano poi uno per uno i i vari disegni rappresentano i ritratti di questi di questi ragazzi fatti dai dai bimbi di istia eh che proprio lo sguardo come diceva eh Emanuela Maccherini prima hanno catturato tutto un mondo di speranze di di eh questo è particolare ora non so se lo vedete c'è va bene questo è eh Corrado Matteini eh è venuto sono tutti molto belli eh devo dire Attilio Sforzi eh Alcide Mignarri Rino Ciattini sono tutti fatti proprio con grande sentimento Attilio Sforzi di no Attilio Sforzi proprio un volto mh nelle foto che noi abbiamo di Attilio c'è proprio tutta la giovanile speranza diciamo Alvaro Minucci eh Mario Becucci poi avevamo poi messo qui in versione scritta tutto quello che i ragazzi invece hanno eh raccontato a voce questa è stata l'esperienza siamo partiti diciamo da una ehm da una eh interpretazione storica dei documenti da una visione diciamo storica per poi con le giuste eh precauzioni perché si deve sempre partire dalla storia eh abbiamo poi elaborato una serie di di lavori diciamo di di fantasia lavori artistici lavori creativi eh sulla stessa eh onda sono i ragazzi di Cinigiano Romina ci sei? chiamo Romina colombiniamo eh ecco la lascio la fantastica terza media che io conosco da quando facevano la prima perché abbiamo fatto un sacco di lavori insieme su sulla sulle riforme lorenese abbiamo lavorato tante volte e questi ragazzi eh hanno voluto invece eh elaborare un un filmato ma ma parliamone un pochino con loro che mi dite che mi dite di questo filmato ragazzi buongiorno a tutti noi siamo la terza media di Cinigiano e oggi siamo qui per presentarvi il nostro lavoro inizialmente abbiamo partecipato a laboratorio storico con Elena Vellati organizzato dall'ISGREG e poi abbiamo successivamente abbiamo realizzato un video dove è presente una presentazione una testimonianza ufficiale eh due test scritti da noi tra cui uno è frutto di ricerche storiche mentre l'altro è una lettera eh frutto della nostra immaginazione buona visione io Palmira Guidoni madre di Silvano ucciso dai fascisti perché trovato nella macchia dei monti bottigli espongo quanto segue nella notte dal 21 il 22 marzo mi trovavo nella casa dei miei fratelli viaggi situata nei dintorni della macchia alle ore circa uno e mezzo bussò la porta a Racciti Lucio guardia repubblicana e non appena aperto fu invasa la cassa dal numero rilevante di fascisti e tedeschi che commise ogni ogni sorta di sopplusi massacrarono col caccio dei miei fossili e miei fratelli tra i quali un ammalato commisero tutto ciò perché la spera a Citi in precedenza fu ospitato con fiducia dei miei fratelli io disperata nella notte saltata alla finestra per andare ad avvertire i nostri figli di tutto quanto avveniva ma mi spararono e fuori condotta in casa mentre stavo tornando indietro a un certo punto della strada incontra i fascisti che venivano nella mia direzione cantando avevano già compiuto l'assassinio io non capì più nulla corsi come pazza e mi trovai dinnanzi a 11 creature colpite a morte in un lago di sangue sappiamo che il cucini dopo la cattura dei nostri patriotti si fermò dal prof andrei cesare suo amico al suo podere con il quale cordialmente si salutò ed esso il cucini disse abbiamo preso 11 ribelli ora li infilziamo tutti si prega prendere le misure del caso ed agire senza credenza verso tutti i responsabili fiero grazi originario di cinigiano una vittima dell'ecidio di maiano lavacchi nel 44 era il 22 marzo quando nel comune di maiano in toscana avvenne questo tragico evento dopo un processo sommario per mano fascista 11 ragazzi furono fucilati e fra loro anche al fiero lui aveva solo 19 anni ed era ancora uno studente nel 43 fu arrestato per aver rifiutato la chiamata alle armi fu portato alla prigione di firenze da dove fuggì per poi nascondersi a monte bottigli dove poi morì cari ragazzi se state leggendo vuol dire che siete riusciti a trovarla la mia ultima lettera sono consapevole di morire ma provo comunque a scriverla io non ho paura ho fatto tutto quello che volevo fare e non mi pento di nulla dite alla mia cara mamma che non si deve dispiacere per me che le voglio bene dite a mio padre che anche se non gliel'ho mai mostrato ci ho sempre tenuto a lui e infine saluto a tutti i miei amici tutti gli altri dieci ragazzi accanto a me sono disperati sento piangere fuori le mamme e non posso fare nulla quando sono stato chiamato direttamente dallo stato io e i miei amici siamo scappati spaventati avevamo paura della guerra paura di morire e soprattutto non volevamo più seguire le regole dello stato fascista ci siamo nascosti nella macchia eravamo tristi nascosti ogni giorno rischiando la vita siamo rimasti nascosti per molto tempo ma un giorno un italiano ci ha denunciato le autorità sono venuti soldati italiani e poi tedeschi ci hanno trovato e ci hanno portato in una scuola a maiano lavacchio dove sono tuttora c'è stato un processo ingiusto e le nostre madri piangenti supplichano la nostra vita hanno deciso di fucilarci e ci hanno concesso di scrivere qualcosa alla lavagna i gemelli hanno scritto un messaggio alla loro mamma vorrei che tutto questo finisse e che sia solamente un brutto incubo cari ragazzi in questo mio ultimo momento sto pensando a voi vi raccomando fate sempre ciò che è giusto fare distinti saluti grazie al fiero grazie a tutti complimenti ragazzi molto bello grazie davvero romina eh ce la facciamo ci sentite ok perfetto perché abbiamo qualche allora loro come come avete intuito sono bravissimi anche da un punto di vista informatico e tecnologico sto cercando di imparare da loro come affrontare la mattinata perché non è semplice fortunatamente loro sono bravi sì e cogliamo l'occasione per ringraziare Elena per il lavoratore che abbiamo fatto con lei e la possibilità che ci è andato di riflettere e di soprattutto di eh anche rivivere parte della nostra storia locale della nostra realtà lo hanno sentito profondamente più in questo lavoro perché li riguarda in eh come prima persona uno dei ragazzi erano appunto di riflettere e dunque si sono andato per per cercare di trovare la casa i parenti ho trovato anche ehm il ehm entusiasmato perché la mattina che Elena è venuta ai documenti durante la lettura molti di loro erano colpiti eh sono un po' più grandi e dunque hanno anche una capacità di rielaborare e e di eh scendere no direttamente entro ai testi in maniera più più profonda ed è stato un lavoro produttivo di speriamo speriamo che abbia lasciato una caccia importante perché di questo c'è c'è importati di piccoli semini e poi possano aiutarci a poter vedere le piante rovinistenti e porti grazie grazie a voi qualcuno dei bambini vuole eh vuole leggere vuole parlare? Prima avevo visto delle mani alzate mi dispiaceva non avergli dato spazio ai vostri stessi primi scusate sono l'insegnante Emanuela Maccherini non so se Cristian vuole raccontare l'esperienza se c'è ancora di quando sono andati ehm al cimitero o Rocco alla ricerca facciamo parlare Cristian Rocco adesso prego Cristian ma siadat ma essere accogliati a dei problemi con l'audio allora Rocco vuoi intervenire qui? Prego se Cristo riesce a smutarsi parlo io? prego Rocco, sì allora ad un certo punto Francesco Magini ha avuto l'idea di andare al cimitero voleva andare per fare un giro perché voleva andare all'Andrea Gucci gli ho detto andiamo a vedere la Cappella dei Martiri bravo Rocco che cosa mi ha spinto ad andare al cimitero alla ricerca della Cappella l'espressione che ha fatto Francesco Magini mi sembrava l'espressione di un Martiri bene quindi che cosa avete visto al cimitero di Istia abbiamo visto una Cappella con sette Martiri siete riuscite a ringraziare c'era anche la mamma una c'era anche la madre di Emanuele Corrado Matteini vero? sepolta lì poi più sopra c'era l'altra Cappella ma era evitato l'accesso è certo è chiusa voi l'avete vista da fuori perché è chiusa la Cappella con un buchetto se non erro ma più il cancello per andare di sopra ok va bene se mi si va lontano qualche altro bambino alunno della scuola di Istia chi di voi vuole dire qualcosa in merito a questa vicenda che cosa avete imparato conoscendo questa vicenda se qualcuno vuole intervenire per alzare di mano Sofia prego Sofia se ce la fai ad attivare il microfono qualcun altro vuole alzare la mano vuole dire qualcosa possiamo forse attivarlo da qua Matti attiva il microfono volevo dire che praticamente loro non volevano andare a fare la guerra ma i fascisti l'hanno fucilati lo stesso perché secondo loro non servivano a niente ti ricordi Emma che cosa ci aveva detto la professoressa Elena rispetto a questa vicenda che cosa aveva provocato nelle coscienze della popolazione soprattutto di Istia ma anche dei dintorni questa brutta vicenda che cosa aveva avuto come conseguenza eh alla fine del fascismo eh alla fine del fascismo si ribellarono eh oh benissimo quindi si erano costituite poi nella zona le bande dei par dei partigiani dei partigiani benissimo benissimo e ti ricordi Emma quando fu liberata Grosseto più o meno dai partigiani e l'abbiamo scoperto quest'anno ti ricordi più o meno il periodo ce lo dice la professoressa Elena così ci aiuta prego dopo poco tempo da questa vicenda rispetto a questa vicenda passano solo alcuni mesi e la liberazione di Grosseto avviene il 15 di giugno del 44 quindi relativamente presto rispetto al resto dell'Italia centro-settentrionale questo no ma io avevo accennato al fatto che questa vicenda in qualche modo aveva lasciato un segno grande nelle persone di allora perché era stata vissuta come un'ingiustizia terribile quindi le persone magari non erano del tutto convinte di partecipare alla resistenza o comunque di partecipare a una forma anche di resistenza civile da quel punto di vista da quel momento in poi cominciarono ad attivarsi insomma non cambiò diciamo il modo di vivere della resistenza in Maremma grazie a questo episodio e poi un episodio che è stato così importante nella memoria nella costruzione della memoria storica di noi grossetani è stato un episodio una pietra miliare diciamo fa parte del nostro la nostra cultura materiale e immateriale come si può dire siamo grossetani perché sappiamo di esserlo anche grazie a quello che è successo in quel periodo niente era solamente questo l'accenno che avevo fatto i ragazzi di Ciligiano anche loro hanno anche Alfiero fu all'inizio fu sepolto insieme agli altri martiri nel cimitero di Istria lo sapete che poi solo successivamente in un secondo momento fu portato a Ciligiano e so che voi siete andati a vedere la cappella Paglio Romina dove siamo stati sì ragazzi siamo stati loro hanno portato me in realtà perché io non me lo ricordavo più benissimo e invece loro sono stati la mia guida abbiamo fatto questo percorso prima che potessimo fare il laboratorio con te poi dopo abbiamo fatto i lavori e il risultato è quello che abbiamo visto ci tenevano tanto perché comunque hanno dedicato a questo a questo video un sacco di tempo ma anche a casa e dunque revisioni correzioni pulizie di suono no ma il discorso della cappella di Alfiero grazie a Ciligiano è un discorso particolare perché un tempo questa cappella fu anche affrescata dall'unico dei ragazzi che era riuscito a salvarsi ed era riuscito a scappare il soldato tedesco col nome che io non so pronunciare Gunther che poi tutti chiamavano Gino e che fu ospitato dalla famiglia di Alfiero e per ringraziarli di questa ospitalità fece questo affresco lui era un decoratore uno studente d'architettura che fece questo affresco che molti ricordano e che purtroppo non è più rimasto non è rimasto e non c'è neanche una foto sarebbe una cosa meravigliosa riuscire a trovare una foto anche sbiadita vecchia di quello che era il lavoro di Gino niente io vi ringrazio davvero tanto per tutto quello che avete fatto e soprattutto va considerata una situazione come la nostra legata a questi device cazzeschi in cui non è possibile lavorare in presenza anche con Emanuele abbiamo fatto solo incontri online perché non si potevano fare in presente mentre a Cinegiano sono potuta andare con loro ho dovuto fare un altro tipo di lavoro e queste sono veramente delle difficoltà grandi di